quando prendi 7 a scuola elementari chi mi hai preso 7 vabbè è sempre meglio di prendere 6 medie chi mi hai preso 7 beh dai è sempre meglio di prendere 6 superiori chi mi hai preso 7 se ancora più promosso sono ancora più promosso liceo chi mi hai preso 7 se sono ancora più promosso questa qua sarebbe la galina strozzata non c'entra niente niente con questo video ma vabbè